Dalle monete dei Vangeli alle medaglie sacre contemporanee al Museo Archeologico di Teramo dal 19 ottobre al 6 gennaio 2014 si potrà visitare la mostra celebrativa Il Metallo della Fede. Sì, è un'occasione per coniugare proprio quello che è conservato nel Museo Archeologico, quella che è l'antica monetazione dei tempi di Gesù e quello che è invece l'oggi, cioè la medaglistica legata alla produzione moderna e questo è un modo per ricordare che non ci si proietta nel futuro, non si è nel presente se non si toglierà nel passato. In questo percorso sono presenti opere, medaglie di artisti giovani o meno giovani, comunque moderni. Sono presenti poi una sezione dedicata a uno dei più grandi scultori e medaglisti italiani e anche mondiali che è il professor Angelo Grilli e un'altra sezione dedicata alle monete citate nei Vangeli. Tipo quella appunto, quella della data a Cesare, quel che è di Cesare, qual era questa famosa moneta con cui Gesù e gli ebrei pagavano la tassa ai romani perché gli ebrei erano carichi di tasse, peggio di noi. Abbiamo le monete che si citano sempre, l'obulo della vedova, il buon samaritano oppure gli operai della vigna quando Gesù alla fine dice che il padrone paga gli operai, cioè varie parabole. E abbiamo anche invece le monete che Gesù stesso e gli apostoli adoperavano per la vita quotidiana perché anche loro in qualche modo campavano. Questi sono famosi, si chiamano perché i Vangeli in realtà dicono 30 monete d'argento, non dicono 30 denari. Però dato che la moneta d'argento più comune in quei tempi era il denario di Roma che era il dollaro del mondo antico poi si è tradotto i 30 denari. In realtà sono 30 monete di tiro. Gesù fu pagato 120 volte 100 euro.